È un po' un sogno che avevamo nel cassetto da tempo, cioè l'idea di trasformare gradualmente la scuola, questo vale oggi particolarmente per il liceo artistico, in uno strumento, in un momento, in un luogo dove si impara facendo. Allora, l'agenzia didattica legata al liceo artistico mette proprio in campo questa idea. Cosa vuol dire? Che i nostri ragazzi in qualche modo lavoreranno in modo didattico, perché per loro è attività scolastica a tutti gli effetti, accompagnati dai nostri insegnanti, che sono il prof. Mirko Zullo e la professoressa Eleonora Perretta, audiovisivo multimediale, grafica, illustrazione digitale, per realizzare prodotti legati appunto al mondo della comunicazione per una committenza, una committenza diffusa. Oggi noi siamo partiti veramente coi piedi per terra perché abbiamo già tre sponsor che hanno creduto a questa nostra iniziativa. Io ringrazio davvero Piana di Vigezzo, le ferrovie Vigezzine e l'azienda vitivinicola Edoardo Patrone, perché, come dire, hanno un po' la responsabilità di essere stati padrini di questa iniziativa. Ma il cuore è che davvero i ragazzi imparino a guardarsi intorno, cogliendo le ricchezze del nostro territorio. Infatti, se vedete, sono tutte realtà che rappresentano una qualità e una specificità del nostro territorio e, apprezzandone le qualità, riescono a trasformare il valore in un valore percepito. Questo è davvero il grande lavoro didattico che noi faremo con loro. Accompagnati da professionisti iniziano questa avventura, per cui, come dire, invitiamo poi tutte le realtà del territorio in qualche modo a appoggiarsi a noi per fare lavorare i nostri ragazzi e per avere una ventata di giovinezza che è quella che possono portare. Il nome dell'agenzia è già un programma perché è RGB Boom, per cui giovani per giovani. Abbiamo realizzato questa grafica con i programmi adobe, programmi, appunto, professionali. Ora l'aeroplanino va a indicare, appunto, il logo della nostra scuola che vuole un po' simboleggiare questo slancio verso il futuro, augurando a loro, appunto, di avere un futuro positivo, sia a livello lavorativo che comunque legato anche allo studio. E i vari simboli, invece, sono i corsi della scuola, del liceo. I ragazzi hanno dalla loro il tempo e, come dire, una creatività quasi disinteressata. Però è una creatività disinteressata che in qualche modo va fatta notare a loro, no? Cioè, sono talmente bombardati da stimoli che a volte rischiano di essere soltanto, come dire, anestetizzati. Rischiano solo di assorbirli e non di esserne direttamente i protagonisti. In quest'ottica, responsabilizzare la loro creatività e le loro idee, credo che sia una cosa fortissima. Quindi sfatiamo assolutamente il mito dei giovani che non hanno idee, anzi, ne hanno tante, devono però ascoltarle.